C'era una volta il futuro, oggi il futuro non c'è più e l'esempio migliore dell'alteratore di fantascienza è un racconto di Frederick Brown, uno scienziato, questa volta non pazzo tranquilli, normalissimo, anzi intelligente e molto molto educato, sta spiegando ai suoi allievi come si fa a viaggiare nel tempo e ha la macchina del tempo per dimostrarlo, prende una mela, la inserisce nella macchina del tempo, schiaccia un pulsante, la mela scompare e dopo un minuto esattito appare, ma c'è sempre il solito secchione, quello che sa tutto, quello che vuole sfidare anche lo scienziato e allora fa una domanda e dice, ma se noi togliessimo la mela potremmo far viaggiare nel tempo, il tempo stesso, allora lo scienziato accoglie la sfida, toglie la mela, chiude la macchina, schiaccia il pulsante e sparisce l'universo. Sì pronto, sì sì, sono dottor futuro, sì, sì, grazie della domanda, allora io con questa storia di Frederick Brown, volevo poi dirti che tutto sommato l'universo non si può toccare, tutto è in equilibrio, quindi mi raccomando, niente scherzi e niente esperimenti, ok, grazie. Invece no, nei film di quegli anni hanno fatto di tutto, esperimenti genetici, prime clonazioni, viaggi nel tempo, sparizioni, i dottor pazzi, scienziati, di tutto, però alla fine il grande finale americano, il grande sogno americano della casa, il tornare a casa, dell'abbracciarsi, tutto tornava come prima, tutto rimaneva in equilibrio, l'universo non poteva essere toccato, come anche nel film di questa sera. E il film di questa sera è un altro film sulla mosca. La maledizione della mosca è il film di questa sera, è del 1965 ed è il terzo film della serie Fly, la mosca, iniziata con l'esperimento dottor K, seguita poi dalla vendita del dottor K. Il dottor K non c'è più, Vincent Price decide di non girare più questo film, chissà, forse non appagarlo al film precedente. Ancora protagonisti? La famiglia dello scienziato, ma in realtà non scienziati, ma pazzi ugualmente. Il trasporto dei film precedenti ha causato nella famiglia delle manipolazioni genetiche. Per far fronte a queste loro mutazioni devono ricorrere a delle gente normale, devono ricorrere a degli esperimenti su gente normale, o di acquisire quindi la normalità da altri esseri. Catturano altre persone, le portano nel teletrasporto e in realtà creano dei mostri e creano al tempo stesso la loro stessa macabra film.